Porca merda. Eri porca merda. Ma che scarto c'è dentro? Uno, due, tre. A posto. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non so se mi state vedendo e se non mi state vedendo, tanto meglio. Perché? Perché in queste condizioni voleranno tre droni. Volerà il DJI Mini 3 Pro, l'Apsan Zino Mini Pro e il DJI Air 2S. Perché questi tre droni? Perché loro hanno sicuramente come caratteristica la possibilità di fare riprese anche notturne. L'Apsan Zino Mini Pro ha proprio anche una funzione che dobbiamo andargli attivare nel menu della fotocamera, che è proprio Night Mode, quindi per volo notturno, quindi riprese notturne. Mentre per quanto riguarda i droni DJI, no. Si vola normalmente, come vogliamo, anche di giorno. Tutte le funzioni saranno impostate in automatico, appunto per quanto riguarda le videocamere, a parte il Zino Mini Pro che avrà attivato questa funzione Night Mode. Quindi, questo è quello che andremo a riprendere. Ovviamente, ragazzi, non so cosa ne uscirà perché capite che è una situazione molto critica, soprattutto per alcune parti del lago, che veramente non c'è luce. Quindi non so cosa si vedrà, non si vedrà. Ci tenevo a fare questa comparazione perché tantissimi di voi mi hanno scritto nei commenti se il Mini 3 è meglio dell'Air 2S in condizioni di, diciamo, poca luce come queste, o se invece è meglio Air 2S, se lo Zino Mini Pro è meglio dell'Air 3, tutti questi confronti. Quindi, in questo video cercherò, appunto, di chiarire e di farvi capire, secondo voi, qual è il migliore in queste condizioni. C'è una cosa da dire che, ovviamente, essendo una situazione molto ampia dal punto di vista panoramico, cercherò di fare le stesse tratte per quanto riguarda le traiettorie e per quanto riguarda i metri percorsi in quella direzione, appunto, per cercare di rendere più simile possibile il video che andiamo a vedere. E per fare questo video ho dovuto aspettare un orario abbastanza importante perché sono circa le 10.30, che è l'orario in cui veramente è diventato buio pesto. Io sono arrivato qua sul lago che erano le 9.15, ma non diventava mai buio. Veramente è stata un'agonia aspettare il buio. Adesso, invece, sono veramente in un angolo super buio. La mia e-bike che mi sta illuminando, quindi per quello che mi vedete pochissimo, e qua abbiamo lo zaino con i tre droni. Ovviamente non si vede una mazza neanche nello zaino. Quindi ragazzi, detto tutto questo, vi aspetto sotto nei commenti per le vostre opinioni, per i vostri pareri. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, quale è che vedete migliore, quale secondo voi in queste condizioni di scarsa luminosità, o meglio di luminosità inesistente, è il miglior drone. Dal punto di vista della qualità video, e quindi mi raccomando, fatemi sapere le vostre opinioni. E se il video che andate a vedere vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, e prima spoiler anche di questo video, sono arrivati su Instagram. Quindi mi raccomando, vi aspetto su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon a sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Tantissimi coupon dedicati a tantissimi prodotti, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test come questo, una novità. Ciao, e al prossimo video. E adesso ragazzi, decolliamo con DJI Mini 3 Pro, Absan Zino Mini Pro e DJI Air 2S. Voliamo! Ciao, e al prossimo video. Ciao, ciao! 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 Grazie per la visione!